Come posso prevenire i pidocchi? Le probabilità di prevenire i pidocchi, in particolare i pidocchi, valgono fino a loro con la vincita della lotteria. Se avete bambini, e frequentano la scuola o un asilo nido, è probabile che prima o poi uno o più dei bambini torneranno a casa con i pidocchi. Contrare questi fastidiosi parassiti non ha nulla a che fare con l'igiene o la pulizia, e fortunatamente i pidocchi non diffondono la malattia. Le principali misure che è possibile adottare per evitare che i pidocchi si trovino nell'educare i bambini evitano le pratiche che aiuteranno nella trasmissione. I pidocchi non saltano o volano e hanno solo una durata di due giorni quando vengono rimossi dal loro ospite. In realtà, i pidocchi possono essere trasmessi solo per contatto con una persona infestata. Il contatto testa a testa è la forma più comune di nuova infestazione, anche se può verificarsi anche condividendo i vestiti con un individuo sottoposto a pidocchi. I pidocchi possono anche essere trasferiti tramite cuscini del divano, lenzuola, asciugamani, federe e persino posti auto. Pertanto, per prevenire i pidocchi, ci sono passi che possono essere presi per ridurre le possibilità di trasmissione. In primo luogo, insegna ai tuoi figli a non condividere pettini, spazzole, asciugamani, sciarpe o cappelli con i loro amici. I pidocchi possono passare a un nuovo ospite solo attraverso una sorta di contatto diretto. Tale contatto è quasi impossibile da controllare, e negli Stati Uniti da solo fino a 12 milioni di persone principalmente i bambini contraggono ogni anno i pidocchi. Quelli che hanno maggiori probabilità di contrarre i pidocchi sono i bambini tra i 3 e i 10 anni, con le ragazze più a rischio rispetto ai maschi. I pidocchi possono essere uccisi con una varietà di shampoo medicati da banco che sono perfettamente sicuri per l'uomo ma mortali per i pidocchi. Per evitare che i pidocchi tornino, un evento fin troppo comune, dovresti impegnarti in una serie di semplici procedure. A causa della breve durata della vita dei pidocchi quando sono distaccati da un ospite, non è necessario sottoporre a fumigazione un'intera casa. Dopo esserti assicurato che la testa di tuo figlio sia libera da pidocchi, dovresti lavare tutti i pennelli e i pettini in uno shampoo medicato. Un'altra tecnica per prevenire la ricomparsa dei pidocchi è quella di immergere questi oggetti personali in acqua che superano i 128 gradi Fahrenheit, 53 gradi Celsius, per 10 minuti. Lavare tutti i vestiti, federe, lenzuola, cappelli e cappotti in acqua calda, quindi asciugarli nella posizione più calda possibile. Aspirare i sedili della macchina, il cuscino del divano, i cuscini e i letti per raccogliere eventuali pidocchi che potrebbero ancora vivere e stare in attesa. Ultimo ma non meno importante, controlla la testa del bambino ogni pochi giorni per accertarti che lo shampoo medicato abbia funzionato o che i pidocchi non siano tornati.